be safe be rock bentornato a un nuovo appuntamento di b side qui in questo salotto dove ci incontriamo con artisti con persone del pubblico spettacolo perché perché la loro riteniamo che la loro relazione con l'emozione quindi con la vita ci possa dare degli spunti a noi che magari viviamo nella caverna degli addetti ai lavori per capire cosa serve per veicolare meglio messaggi di salute e sicurezza beh oggi sono contentissimo perché è vero è un anno che esiste b side abbiamo visto tanti artisti ma vado a memoria non si offenda a nessuno se me ne sono dimenticato è il primo cantautore che abbiamo con noi e oggi insomma avere una rappresentanza del cantautorato parliamoci chiaramente non è proprio banale beh comunque il nome è tutta una curiosità e ci svelerà il come abbiamo con noi guzzi buonasera a tutti ragazzi buonasera ciao ciao guzzi in all'anagrafe alessandro domenici e dici guzzi o guzzi e dico guzzi con questa z bella potente tipica della mia zona ho letto che deriva dalla tua prima la tua prima moto è stata una guzzi certo come ci montavi sopra con il casco senza ovviamente sempre con il casco chiaramente anche perché capelli da mettere al vento non ce no è su questo siamo siamo molto simili vento scano insomma come come rock and safe perché del resto noi nasciamo a firenze fra l'altro hai avuto hai visto il mondo da un paese incantevole quale quella quel paese che è piacra santa quindi ha influenzato in qualche modo crescere in un ambiente dove l'arte veramente è da tutte le parti io sinceramente credo di sì credo di sì perché vivere in un posto del genere credo che ti porti in qualche maniera a volerti esprimere no che sia con un quadro che sia con una scultura che sia con una canzone no infatti ho tantissimi amici che che sono artisti fanno appunto quadri sculture è una cosa molto sviluppata in questa zona bene te preso la via della musica com'è nata questa passione ma la cantina la passione della musica nasce da da bambino praticamente perché in casa mi ha già sempre stata questa questa forte componente musicale mamma e papà hanno sempre cantato alle feste così anche in casa semplicemente mentre facevano altro e poi soprattutto erano grandissimi ascoltatori di musica mia mamma ha sempre ascoltato più da parte diciamo dei cantatori e invece mio padre più quella dei gruppi rock quindi ho avuto una commissione particolare bene una buona legata a firenze perché mio papà è sempre stato un grande ascoltatore dei litfiba e io quando durante una gita delle elementari a firenze io ho preso in mano una cartina vedi via dei bardi e scappai dalla gita per andare a vedere la famosa cantina beh viva noi vi salutiamo perché a rotazione ehm tutta la formazione anni ottanta ma anche di quella recente che abbiamo avuti quasi tutti eh manca il frontman caro Piero noi ti invitiamo tutte le volte visto che ci sono stati Gianni Maroccolo Antonio Aiazzi Gigo Simoncia Sagona che c'è stato fino a poco tempo fa e quindi lì l'invitiamo ma anche solo te e quindi vieni beh quindi insomma una una bella ecco sai mi fai venire in mente una cosa di quanto è importante alla fine l'educazione a volte anche implice in diretta io non credo che eh ti è stato imposta la musica ma per osmosi il nucleo familiare ti ha dato e come questo eh noi lo possiamo ribaltare anche nel mondo della della buona educazione della dell'educazione civica dei ragazzi perché insomma no è molto impantante l'ambiente dove noi noi cresciamo certo e quindi se è arrivato che insomma a oggi quanti brani hai pubblicato allora con il progetto Guzzi adesso siamo a quota sei e vedremo magari con l'anno nuovo di racchiudere questi questi brani dentro un EP però insomma per ora navighiamo a vista bene bene tutto composto composto da te quindi eh certo cioè io diciamo così mi occupo più che altro della fase della scrittura per quanto invece riguarda l'arrangiamento c'è il mio produttore che si chiama Mirko e colgo l'occasione per salutarlo che è parte integrante proprio del progetto bene complimenti Mirko e l'ultimo brano proprio ancora insomma caldo di forno eh serie serie A eh dove ci dai uno spaccato no della di una di una tua domenica parlacene un po' allora io come avrete potuto immaginare sono un amante della domenica per me è il giorno più bello della settimana sono proprio ossessionato forse anche dovuto al cognome no? Eh serie A è nata in realtà nel periodo del lockdown quindi la serie A non c'era e io mi immaginavo sentivo il bisogno di una domenica normale diciamo quella dove magari c'hai i postumi del sabato sera dove ti stendi sul divano e ti guardi la tua partita della serie A e quindi me la sono immaginato e l'ho rinchiusa in una canzone eh quindi una una sorta di come dire di eh qualcosa che manca no? Perché poi era una mancanza diciamo sicuramente no? Della appunto il sabato sera che magari qualcosa hai vissuto mettiamola mettiamola così magari sei tornato sano e salvo a casa quello di ah ecco perché quindi mi ha detto eh l'ossessione per la domenica visto che un brano eh di quanto un paio d'anni fa se non sbaglio si chiamava proprio domenica certo eh quindi ecco eh si percepisce anche il tuo brano comunque cioè eh molto spontaneo come come testo io mi mi ci sono ritrovato lì sul divano a guardare a guardare la partita ecco eh ci faccio una domanda che magari può sembrare molto generale però eh che rapporto hai con con la vita no? Quindi Alessandro steso sul divano ma in generale per te eh com'è che ci si gode la vita? Allora io penso che ci si goda ci si goda ci si goda la vita ritagliandosi degli spazi per sé che siano appunto per guardare la partita sul divano che è una cosa molto semplice oppure per scrivere una canzone oppure per uscire a piedi e fare una passeggiata. Credo che godersi la vita sia appunto ritagliarsi uno spazio per le proprie necessità. E quindi il contrario cosa vuol dire? Che abbiamo poco tempo per noi o per questi momenti così? Come scusa? Dicevo il contrario cioè questa è la tua visione di vita no? Mi fa capire di ritagliarsi i spazi che sono per te per dalla cosa più futile può essere la domenica sul divano alla musica eccetera. E quindi il contrario cosa vuol dire? che viviamo una vita troppo frenetica? Viviamo sicuramente una vita troppo frenetica appunto dovuto anche al ai social secondo me come stavamo dicendo prima no? Che ci portano sempre a volere qualcosa in più a volere magari accanto una persona che non non abbiamo degli amici che non sono con noi in quel momento lì invece di godersi magari gli amici che ci sono che sono tanto importanti quanto quelli che magari sono a chilometri di distanza no? Quindi e poi soprattutto qui e d'ora. Esatto e poi soprattutto credo che a volte si voglia si pensi diciamo di godersi di più la vita se si spinge al massimo si spinge a sempre all'eccesso invece la libertà godersi la vita secondo me è proprio togliere togliere pesantezza no? Sì si sono pienamente d'accordo e e questi sono temi che comunque quando parliamo di salute infatti più di più di salute in questo caso e di sicurezza che eh oggi un po' la la società ci impone ritmi diversi che sia poi sul lavoro il il i social ambira sempre a qualcosa che non hai è sempre più verde l'erba del vicino probabilmente concordo sul fatto che se riuscissimo a ad apprezzare quello che abbiamo perché poi alla fine tutti abbiamo molto e a sfrondare un po' di frivolezze magari viveremo meno concitatamente e con più soddisfazione sono d'accordo pienamente d'accordo bene bene fra l'altro appunto nel pretrasmissione parlavamo eh con Alessandro che eh te hai trent'anni e comunque sei molto analogico eh quindi prediligi la vita analogica digitale e e questo cosa appunto in qualche modo lo abbiamo già detto il rischio di di essere troppo immersi in una vita digitale dal tuo punto di vista qual è un po' ce lo siamo detti anche adesso è che si creino delle barriere invece che abbattersi no? In che senso? Spesso ci troviamo in mezzo alle persone anche magari in una tavolinata no? Invece di essere tutti insieme parlare o comunque sia condividere un momento ognuno è lì col suo telefono in mano che cerca quello che non può avere in quel momento lì è una cosa secondo me di una tristezza infinita. Esatto esatto sì 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 siamo rinchiusi molto deprimente molto deprimente siamo rinchiusi dietro ad uno schermo quando invece siamo dovremmo essere liberi no? È vero è vero mi fa venire in mente una cosa che ci ho già riflettuto in passato eh quando andavamo ai concerti che tante volte ormai siamo abituati a vivere la vita in uno schermo che magari nonostante magari tu abbia una buona visibilità è più facile guardi il maxi schermo che l'artista che sta suonando come se veramente avessimo e comunque la realtà è la realtà delle cose cioè noi abbiamo una dipendenza dallo schermo che però ci distacca da una dimensione reale eh che poi è quel momento con l'amico con la persona cara a volte io dico eh passeggiamo per le strade non vediamo nemmeno cosa c'è attorno a noi non lo so stare su whatsapp facebook o qualsiasi altro altro social e magari sei andato in gita che ne so in una città che che vorresti visitare quindi rimaniamo un po' più attaccati alla realtà non che il digitale sia una cosa brutta però dosarlo bene no assolutamente è l'abuso che è una cosa brutta ma l'abuso del digitale come di tutto il resto eh ogni abuso secondo me è una cosa brutta concordo concordo che non difficile che un qualcosa di materiale la tecnologia ma possiamo fare riferimento altro sia buono o cattivo è l'uso che ne facciamo che poi ne definisce ne determina anche eh la sua la sua qualità quindi esattamente questo è il messaggio che che ci portiamo a casa beh eh andiamo verso la conclusione tornando alla tua vita artistica eh ci sono progetti in vista per per il futuro ma guarda io singolo forse ti vedremo forse al dal vivo da qualche parte ma io me lo auguro sinceramente me lo auguro un po' di progetti ci sono in ballo però io ho capito una cosa in questi anni di musica che eh finché le cose non sono ben definite è bene non parlarne perché dopo non si realizzano non capisco come sia possibile però funziona sempre così quindi io vi dico solamente che appena avrò notizie più definite vi dirò sicuramente qualcosa possiamo rimanere così che ci stai lavorando qualche cosa qualche novità ci annuncerai presto bene bene esatto non vogliamo eh proprio oggi bene il mio augurio è quello di di riuscirti di di vederti da dal vivo perché la musica dal vivo grazie una bella serata eh live è sempre eh un piacere quindi Guzzi ti ringrazio del insomma dell'ultimo lavoro fatto invito tanto in rete eh le solite piattaforme troviamo tutti tutti i suoi brani e in particolar modo serie A che è uscito ora poche settimane fa bene bocca al lupo so che c'è una bella pioggia speriamo non so lì a Camaiore da dove ci stai chiamando speriamo che non non porti guai no speriamo di no eh speriamo di no eh ci ha dato un po' di rallentamenti di connessione ma ne valsa comunque la pena bene grazie mille grazie a voi ciao Alessandro ciao ciao è bello trent'anni cantautore e con una vita analogica che magari può sembrare vintage in realtà ha molta più sostanza perché è vita vita reale e senza demonizzare assolutamente quella che è la i vantaggi del del digitale tante volte però va a discapito del eh di quello che dell'essere qui e qui ed ora e anche questa è salute ci sentiamo molte volte stressati e poi però siamo fino a tarda serata sul cellulare a guardare a scrollare sulle notifiche ehm se abbiamo ricevuto like non è questo che determina la qualità della vita ma eh ciò che costruiamo le esperienze che viviamo eh quelle esperienze vere che si toccano con mano fra le persone anche questa se vogliamo è salute ci vediamo la prossima settimana be safe be rock ciao 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 Grazie a tutti.